L'occasione per dare il tè in bentornato a un grandissimo campione che è Ibra. Sa benissimo che c'è stato un momento anche che ho cercato di convincerlo per venire al Chelsea. Lui in fase di recupero non se l'è sentita. Quindi è una persona che stimo tantissimo. Ibra è un ragazzo che può dare tantissimo a livello di personalità, è un ragazzo forte, un ragazzo che comunque viene anche da un'infanzia in cui nessuno gli ha regalato niente quindi è cresciuto da solo. Penso che lui possa dare tanto al Milan, possa sicuramente portare personalità, responsabilizzare ancora di più un po' tutto l'ambiente. Penso che sia importante riuscire per un allenatore a trovare dei calciatori in squadra che possano comunque portare tra virgolette il tuo verbo. Ragazzi che hanno personalità, che hanno senso di appartenenza, che riescono a trasferire i valori al resto del gruppo. Questo io penso che sia molto importante. Quando un allenatore riesce a trovare questo tipo di calciatori, gran parte del lavoro viene accelerato e c'è una sorta proprio di accelerazione per il lavoro dell'allenatore. Grazie mille. Grazie a tutti